Si chiama Abruzzo Regione del Benessere, il progetto che si pone l'obiettivo di contribuire in maniera attiva al potenziamento e alla creazione di nuovi strumenti formativi, metodologici e operativi in grado di supportare l'attuazione di strategie volte al miglioramento della qualità della vita della comunità e dei cittadini a livello regionale. Il programma operativo per la strategia del benessere rappresenta la prima fase attuativa del progetto promosso dalla regione Abruzzo. In questo contesto l'arte è stata individuata come soggetto attuatore e la stessa agenzia regionale ha individuato all'Università di Teramo il suo partner istituzionale, organizzativo e di coordinamento progettuale, ampliando le proprie competenze anticipando l'evoluzione nazionale sul tema della transizione ecologica. È un ulteriore esempio di una collaborazione istituzionale tra la regione, le università, quindi in generale gli enti del territorio, volto a migliorare in generale la vita della regione, quindi attraverso la ricerca, attraverso la formazione e quindi l'Università di Teramo ovviamente è sempre aperta a queste collaborazioni. È un progetto inclusivo e non esclusivo, insomma oggi viene lanciato e presentato, però poi nella realizzazione vedrà la partecipazione di diversi partner istituzionali. L'Arta da oggi acquista una veste nuova, una nuova propulsione per rendere sempre di più un servizio ai cittadini e alla regione Abruzzo. È sempre tutto monitorato con estrema attenzione, ma quello che posso dire è che il mare abruzzese e la testimonianza diretta ne sono le bagniere blu che sono state date a più centri balneari di quanti ne fossero prima, è la testimonianza prima di una grande qualità delle acque di balneazione. Una regione pulita significa una regione più attrattiva, una regione più attrattiva significa riuscire a incanalare i flussi turistici, perché oggi il turista è sempre più informato e vuole sapere dove andrà a passare i suoi giorni di svago.